ciao a tutti io sono rita estetista e titolare del centro estetico rc beauty center oggi sono qui per parlarvi della radiofrequenza estetica a che cosa serve quali sono i suoi benefici e soprattutto è davvero efficace lo scopriamo insieme la radiofrequenza estetica nasce come trattamento prettamente rassodante tonificante dei tessuti sia del corpo che del viso in realtà in maniera riflessa soprattutto una radiofrequenza monopolare che agisce sul microcircolo e riesce ad arrivare in profondità fino all'ipoderma può essere considerata anche un buon drenante e lipolitico ecco perché io considero la radiofrequenza estetica un trattamento completo seppur nasce come rassodante e tonificante il trattamento è molto piacevole in quanto consiste in un massaggio fatto con il macchinario tramite un manipolo che va a stimolare i fibroblasti che sono i responsabili della nostra produzione di collagene elastina e acido ialuronico che con il tempo viene a diminuire però agiscono anche sulle fibre di collagene esistenti andando ad accorciarle ea rigonfiarle in modo tale da avere subito un effetto di tonificazione e rimpolpamento dei tessuti però grazie all'azione che viene fatta dai fibroblasti è un trattamento un effetto che poi si ripete nel tempo è un massaggio molto piacevole perché si sente del calore che però non è assolutamente nocivo per i capillari e la cuprosa in quanto è un calore endogeno quindi provocato dal nostro organismo prodotto dal nostro organismo quindi ripeto non è dannoso per i capillari e la cuprosa alla fine l'effetto è di tonificazione rassodamento dei tessuti delle attonie delle zampe di gallina delle rughe un rimodellamento dell'ovale del viso un rialzamento degli zigomi o rimpolpamento del viso sono stata molto soddisfatta da questo macchinario e quindi sì la risposta è molto efficace e ho avuto tante soddisfazioni sia a livello professionale che personale quindi mi sento di consigliarla a seguire vi farò vedere un video con il trattamento in sé grazie buona visione avete delle domande scrivetele pure nei commenti vi risponderò molto volentieri e se siete arrivati fino a qui e vi è piaciuto il video mettete like iscrivetevi al canale e attivate la campanella per seguire i prossimi video grazie ciao 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 ciao